Un grande gesto di solidarietà. Qual è il bilancio a fine giornata? Il bilancio a fine giornata è veramente positivo perché le persone sono state estremamente generose. Noi abbiamo avuto la disponibilità di tanti giovani che ci hanno aiutato e abbiamo raccolto veramente tanto materiale. Sono derrate che servono perché Cristo Re, noi siamo della parrocchia di Cristo Re, dà effettivamente un contributo notevole. Ogni settimana circa un centinaio di indigenti. Quali sono stati i prodotti che la popolazione spezzina ha donato di più? Di solito è la pasta, poi ci sono la polpa, il tonno, zucchero, olio, tutto quello che serve in cucina.